Risto Zlatanov, in teoria era scontata con la Turchia, ma ci sono tre azzurri alle prese con virus intestinali, colaci, giannelli, lavi, anche membri dello staff, c'è uno che ha segnato 41 punti nella Turchia con la Finlandia, è scontata? Cioè? No, non è scontato, niente scontato, stati bravissimi, quindi complimenti a tutti, Ciao Zan, quindi si vince? Siamo lì per quello, siamo lì per quello, sicuramente bisogna fare fronte a tutto quanto, però quando arrivano quelle partite importanti lì, si mettono da parte di Garia Ciacchi e si gioca. E poi con la Francia? Prima c'era Turchia, favorite per il la Serie A dicevo. Sono le quattro, quattro soliti, quattro sorelle. L'ordine adesso? L'ordine è Cittano, 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 per Mugilio, Modena e... Ancora saranno quelle quattro, quindi non c'è aria di sorpasso di Verona, di... Piacenza invece con che spirito rientra? Da Ceverentolo. Grazie.